Tre anni di reclusione, questa la pena inflitta dal giudice del Tribunale di Arezzo Giulia Soldini al giovane che lanciò una Molotov contro la stazione dei Carabinieri di Pergine Valdarno, distruggendo anche un'auto di servizio. Solamente il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco impedì alle fiamme di propagarsi. L'episodio risale alla notte tra il 6 e il 7 gennaio scorsi. Secondo i militari dell'arma, che avviarono subito le indagini, si sarebbe trattato di un gesto studiato nei minimi dettagli. Il 18enne, infatti, si sarebbe addirittura posizionato in un cono d'ombra per lanciare l'ordigno incendiario, ossia dove le telecamere non sarebbero potute arrivare. Ma il sistema di videosorveglianza, qualche giorno prima del raid, lo aveva immortalato mentre stava compiendo, secondo gli inquirenti, una sorta di sopralluogo. Il giovane, già noto alle forze dell'ordine, dopo l'episodio fu subito attenzionato dagli inquirenti, lo scorso maggio così scattarono le manette. Secondo i militari, il raid sarebbe stato un gesto di rivalsa contro alcune denunce che i carabinieri di Pergine gli avevano recapitato per vari atti di teppismo negli anni precedenti. Contro di lui una serie di indizi e di intercettazioni che i militari avevano raccolto. Il ragazzo ha però sempre negato ogni addebito, anche ieri, di fronte al giudice che poi ha pronunciato la sentenza. Il PM, Laura Taddei, aveva chiesto 5 anni ridotti per effetto del rito abbreviato a 3 anni e 4 mesi. Il giudice, infine, ha deciso per 3 anni di reclusione. La difesa adesso potrebbe impugnare la sentenza per ottenere le attenuanti generiche in secondo grado.